SIGLA Da cosa... da cosa siete in fuga? Chi ha detto che sono in fuga da qualcosa? Forse corro verso qualcosa. Forse... cerco un'avventura tutta mia. Che c'è? Jack! Jack! Sono morto? No, non ancora. La nostra missione è salvare la principessa. Mi offro volontario. Hai paura del vuoto? No, di cadere. Allora non cadere! Sei qui. Sembri sorpresa. Niente affatto. Spero che vostra figlia trovi la strada per scendere. E se qualcun altro calasse giù prima di lei? Siamo finalmente tornati a casa. Fai... Fo... Sam! I giganti! Avvisa gli altri regni. Pronta? No! I giganti hanno dei punti neboli! Non molti, no! Tu chi sei? Jack! Il cacciatore di giganti. Ho qualcuno alle mie spalle, eh? Dal 28 marzo al cinema.